cari amiche e cari amici sono il pastore sergio manna della chiesa valdese di rorà e vi invito a partecipare a questo studio biblico sul libro di giobbe leggerò e commenterò il capitolo secondo i versetti da 7 a 13 ma in realtà farò riferimento a tutto il libro di giobbe satana si ritirò dalla presenza del signore e colpì giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere sua moglie gli disse ancora stai saldo nella tua integrità ma lascia perdere dio e muori giobbe le rispose tu parli da donna insensata abbiamo accettato il bene dalla mano di dio e rifiuteremmo di accettare il male in tutto questo giobbe non peccò con le sue labbra tre amici di giobbe avendo udito questi mali che gli erano piombati addosso partirono ciascuno dal proprio paese e si misero d'accordo per venire a confortarlo e a consolarlo alzati gli occhi da lontano essi non lo riconobbero e pianzero ad alta voce si stracciarono i mantelli e si cosparsero il capo di polvere gettandola verso il cielo rimasero seduti per terra presso di lui sette giorni e sette notti nessuno di loro gli disse parola perché vedevano che il suo dolore era molto grande giobbe già il nome del protagonista di questo libro potrebbe illustrare uno dei suoi temi fondamentali il probabile significato del nome giobbe infatti dov'è mio padre dio ma anche i nomi dei tre amici di giobbe che compaiono in questo secondo capitolo dicono qualcosa di importante perché la loro matrice è extra biblica forse edomita o aramea come a rivelarci che questo libro di giobbe in qualche modo intende esplorare delle tematiche universali e cioè che il suo orizzonte è libero da esclusivismi razziali culturali e religiosi universale infatti è l'esperienza del dolore la tragedia della sofferenza dell'innocente la domanda sul perché del male nel mondo la famosa questione teologica della teodicea della giustizia di dio ben sintetizzata nel sesto secolo dopo cristo dal filosofo cristiano boezio nella sua duplice domanda si deus est unde malum et si non est unde bonum cioè se dio c'è da dove viene il male e se non c'è da dove viene il bene da un lato ci sono queste domande su dio dall'altro c'è la domanda sull'essere umano e sulla sua fede perché noi crediamo crediamo forse perché siamo nell'abbondanza perché tutto va bene perché non abbiamo problemi di sussistenza allora è facile essere riconoscenti e benedire dio il nostro credere è veramente gratuito e se all'improvviso perdessimo tutto crederemmo ancora questa in fondo è l'insinuazione del satana che qui non è il diavolo come verrà classificato più tardi nell'evoluzione del pensiero teologico cristiano il termine satana infatti in questo libro di giobbe appare sempre con l'articolo il satana perché non si tratta di un nome proprio bensì di una sorta di ufficio di corte in termini processuali potremmo dire che il satana cioè l'avversario il nemico è una sorta di pubblico ministero il cui compito è quello di verificare l'autenticità della fede di coloro che si professano credenti la sua tesi accusatoria in fondo è molto chiara giobbe crede perché tutto gli va bene perché è ricco perché non gli manca nulla perché è il più grande di tutti gli orientali come viene detto nel primo capitolo del suo libro troppo facile quindi per dio lodare la sua fedeltà che in fondo è solo frutto di un do ut des cioè di un dare per avere la fede insomma è un lusso che soltanto chi sta bene può permettersi c'è ci sarà solo e unicamente finché tutto andrà bene la fede di giobbe esiste soltanto perché giobbe ha tutto ciò che un essere umano può desiderare la fede di giobbe non è dunque per niente gratuita e forse per nulla che giobbe teme dio insinua il satana questa la domanda della pubblica accusa e allora qui sul banco degli imputati non c'è soltanto l'essere umano ma dio stesso in fondo l'intero libro ruota intorno a questa tematica fondamentale la gratuità della fede il credere per nulla in fondo è uno scontro tra il pessimismo del satana e l'ottimismo di dio una scommessa rischiosissima nella quale dio punta tutto sull'essere umano nonostante ne conosca fino in fondo tutte le fragilità qui insomma non è soltanto in gioco la fede dell'essere umano in dio ma anche la fede di dio nell'essere umano il satano non può che credere in dio perché lo vede lo ha davanti ma non crede affatto nell'essere umano e nella possibilità che possa esistere una fede veramente gratuita dio invece crede gratuitamente nell'essere umano e dunque nella possibilità che la fede possa essere a sua volta gratuita autentica genuina non frutto del do out des e giobbe che a differenza del satana dio non lo vede che ormai perso tutto famiglia beni salute riuscirà ancora a credere in dio gratuitamente per nulla riuscirà giobbe a far vincere la scommessa quel dio che ha puntato tutto su di lui la risposta a questa domanda non è affatto scontata non lo è per giobbe non lo è per dio in fondo non lo è neppure per noi nel secondo capitolo del libro di giobbe quello che abbiamo ascoltato la scena che abbiamo davanti è quella di un giobbe con il corpo interamente coperto da un'ulcera maligna e il termine ebraico usato è lo stesso della sesta piaga d'egitto questo vedete non è un particolare irrilevante perché la parola indica il genere di infermità epidermiche che comprendevano l'esclusione dalla vita comunitaria religiosa di israele almeno secondo il tredicesimo capitolo del libro del levitico l'astuto satana ha dunque scelto molto bene perché allora non si tratta soltanto del dolore fisico che già basterebbe in verità di per sé stesso ma anche dell'isolamento religioso sociale paragonabile a quello che nella nostra epoca fino a qualche tempo fa sperimentavano i malati di AIDS è un isolamento rispetto al quale la quarantena di questi mesi è una bazzecola il dolore di giobbe è quello che la dottoressa sicily saunders definisce dolore totale perché non è soltanto sofferenza fisica e anche sofferenza psicologica sofferenza sociale sofferenza spirituale è il dolore globale di chi si sente abbandonato sia dagli esseri umani sia da dio è come essere già morti mentre si è ancora in vita insomma è l'inferno sulla terra giobbe deve allontanarsi dalla sua casa dai suoi affetti dal suo villaggio il suo posto adesso è nella discarica il luogo in cui si gettano le immondizie e ormai è soltanto un ammasso dolorante di spazzatura organica umana del quale non sembra importare nulla a nessuno così come accade ancora oggi ai poveri più poveri del mondo abbandonati nelle discariche del pianeta nemmeno da sua moglie giobbe riceveva il conforto di cui avrebbe bisogno e purtroppo è così allora come oggi non di rado le difficoltà della vita anziché unire i membri di una stessa famiglia li dividono e invece della compassione ci si trova di fronte al disprezzo e questo aumenta la sensazione di isolamento invece di una parola di consolazione giobbe riceve da sua moglie il suggerimento di credere o meglio di cedere alla più grande delle tentazioni ancora stai saldo nella tua integrità maledisci dio e muori talvolta non c'è affatto bisogno del satana o del diavolo per indurci in tentazione può bastare la parola di chi c'è più vicino di colui o di colei sul cui amore avevamo pensato di poter contare sempre nella buona così come nella cattiva sorte i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua dirà gesù nel vangelo di matteo ed è ciò che accade a giobbe qui dove la più diabolica delle tentazioni viene proprio da sua moglie maledici dio e muori e se giobbe davvero facesse così noi potremmo perfino capirlo perché la sua condizione è quella in cui ancora oggi si trovano i più disperati della terra quelli che avrebbero tutte le ragioni per gridare contro il cielo facendo proprio la domanda contenuta nel nome di giobbe dov'è mio padre dov'è dio quando guardiamo il male che dilaga nel mondo quando assistiamo con senso di impotenza alle atroci sofferenze alla morte degli innocenti anche noi forse arriviamo talvolta a chiederci dov'è dio oppure se ci sia veramente un dio di fronte al problema del male infatti la posizione del credente è ben più difficile di quella di colui che non crede perché il credente si chiede come mai dio se può davvero tutto non interviene ci sono situazioni nella vita nelle quali l'unica preghiera possibile sembra essere dio mio dio mio perché mi hai abbandonato ma anche questa è una preghiera è la decisione di restare comunque in dialogo con quel dio che non sempre riusciamo a comprendere e verso il quale talvolta proviamo rabbia dio mio dio mio perché mi hai abbandonato sono le parole del salmo 22 saranno le parole di gesù sulla croce almeno secondo il vangelo di matteo non sono però qui almeno per il momento le parole di giobbe le parole che giobbe sceglie per rispondere all'invito di sua moglie a maledire dio sono parole ben diverse parole che lasciano spiazzati abbiamo accettato il bene dalla mano di dio e rifiuteremmo di accettare il male chi di noi riuscirebbe a far proprio quelle parole e l'immagine di dio che sembrano evocare un dio artefice sia del bene sia del male abbiamo accettato il bene dalla mano di dio e rifiuteremmo di accettare il male queste parole possono disturbarci perché ci fanno apparire giobbe troppo poco umano e dio troppo poco divino ebbene sì perché un dio che dispensi a piacimento sia il bene sia il male ci appare come un dio con tratti demoniaci troppo simile a quei tiranni umani che si comportano arbitrariamente verso i propri sudditi dispensando a capriccio senza alcun motivo castighi e benefici e d'altra parte un uomo che sembra accettare sia il bene sia il male come provenienti dalla medesima mano di dio ci sembra troppo poco poco umano troppo diverso da noi portatore di una fede attribuibile soltanto a un personaggio letterario e non ad una persona concreta reale in carne ed ossa eppure per quanto assurdo possa sembrare tutto questo questa fede di giobbe si è sempre di nuovo incarnata nel corso della storia in persone reali e concrete niente affatto figure letterarie abbiamo accettato il bene dalla mano di dio e rifiuteremmo di accettare il male leggendo queste parole di giobbe non ho potuto non pensare a quelle attribuite ad un altro personaggio letterario jossel rachover un personaggio austriaco un ebreo partigiano austriaco parole che pronuncia poco prima di morire nel ghetto di varsavia nel 1943 sotto i colpi nazisti queste le parole di jossel rachover o dio tu hai fatto di tutto perché io non credessi più in te perché io cadessi nel dubbio ma io muoio così come ho vissuto con una grande fede incrollabile per il momento giobbe riesce a rispondere così alla propria moglie senza cadere nella tentazione di maledire dio abbiamo accettato il bene dalla mano di dio e rifiuteremmo di accettare il male sappiamo però che più avanti nel suo libro al culmine della sofferenza giobbe non resterà passivo e con dio discuterà animatamente come i profeti come i salmisti e come tante persone che ancora oggi hanno con dio un rapporto autentico sincero che prevede anche la possibilità di litigare con lui proprio come accade talvolta con le persone amate sì anche giobbe perderà la sua proverbiale pazienza e questo accadrà anche a causa di quello che diranno i suoi amici quegli amici che in questo secondo capitolo vengono a trovarlo inizialmente fanno la cosa giusta partecipando innanzitutto al suo dolore riuscendo perfino a stare in silenzio accanto a lui per un'intera settimana così dice infatti il nostro brano alzarono gli occhi da lontano ma non lo poterono riconoscere allora si misero a piangere a gran voce e ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere gettandola verso il cielo poi si sedettero accanto a lui per sette giorni e sette notti e nessuno gli rivolse una sola parola perché vedevano che il suo dolore era troppo grande in questo momento il comportamento dei tre amici di job è veramente esemplare quante volte ci è capitato di andare a trovare un amico gravemente malato e non riuscire a dirgli nulla non riuscire a stare in silenzio e usare delle frasi fatte che non possono consolare o quante volte abbiamo rinunciato a fare quella visita perché non sapevamo che cosa dire gli amici di job ci sono d'esempio in questa loro determinazione a esserci per il loro amico senza affrettarsi a dare consigli a pronunciare parole improbabilmente consolatorie questi amici di job sembrano sapere che talvolta l'importante è semplicemente esserci accettando anche i lunghi silenzi che in certe situazioni sono comunque meglio delle parole vuote gli amici di job sono ammirevoli in questa capacità di fare cordoglio di piangere con colui che piange di stare in silenzio per una settimana accanto al povero job fin qui tutto bene finché stanno zitti sono di qualche conforto al loro amico il problema purtroppo sarà ciò che diranno quando apriranno la bocca tanto che poi job li definirà consolatori molesti perché anziché comprendere il grido di dolore dell'amico malato contro il cielo si trasformeranno negli avvocati di dio eppure dio non ci ha mai chiesto di difenderlo di intercedere per lui dio non ha bisogno di avvocati difensori dio ci chiede di intercedere per coloro che soffrono siamo chiamati a stare dalla parte di chi soffre di chi al culmine della propria sofferenza grida contro il cielo siamo chiamati a comprendere le ragioni di quel grido ma non è così che si comporteranno in seguito gli amici di job troppo preoccupati di difendere dio ed è proprio per questo che per job essi diventeranno dei consolatori molesti anzi dei veri e propri persecutori così li definirà c'è una teologia che consola e che fa bene ma c'è anche una teologia che affligge peggio della malattia è il tipo di teologia della quale sono imbevuti gli amici di job e che egli non può più fare proprie è quella teologia in base alla quale chi fa il bene nella vita riceve soltanto il bene mentre chi fa il male riceve soltanto il male è un'idea ben presente nell'antico testamento ma di cui rimangono tracce anche nel nuovo testamento basti pensare all'episodio del cieco nato nel vangelo secondo giovanni dove i discepoli chiedono a gesù maestro chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco gesù rifiuta quel tipo di teologia infatti risponde ai suoi discepoli né lui ha peccato nei suoi genitori preoccupandosi di curare il cieco anziché dilungarsi in disquisizioni teologiche questa idea della retribuzione che gesù rifiuta gli amici di job invece sostengono è in fondo il tipo di teologia che può far piacere soltanto a coloro che stanno bene e che non hanno alcun problema di sussistenza probabilmente è la teologia che job e stesso condivideva nel primo capitolo del suo libro quando come è scritto era il più grande di tutti gli orientali ma le cose cambiano quando ti trovi dall'altra parte della barricata quando da un giorno all'altro perdi tutto e ti crollano addosso tutte le tue certezze le esperienze esistenziali possono modificare profondamente le convinzioni teologiche giobbe dopo aver perso tutto inclusa la salute comprende che la teologia della retribuzione non funziona i suoi amici che non hanno fatto la sua esperienza che non riescono a mettersi veramente nei suoi panni sostengono questa teologia quando dopo una settimana di silenzio apriranno la bocca il loro messaggio sarà chiaro se giobbe ha perso tutto e alla fine si è anche ammalato gravamente qualche ragione sotto sotto deve pur esserci deve aver commesso qualche peccato terribile per aver meritato ciò che gli è accaduto ma giobbe che sa di essere innocente si ribellerà con tutte le proprie forze giustamente a questa teologia troppo semplicistica in fondo falsa che finisce per aggiungere dolore a dolore trasformando le vittime innocenti in persone colpevoli della propria condizione tutto il libro di giobbe rappresenta in fondo una ribellione contro questo tipo di teologia oh se le mie parole fossero scritte se fossero impresse in un libro griderà giobbe al culmine della sua sofferenza nel diciannovesimo capitolo del suo libro ebbene questa è una preghiera che verrà esaudita e ben al di là delle aspettative di giobbe perché le sue parole non finiranno in un libro qualsiasi bensì nel libro dei libri nella bibbia esse diventeranno parola di dio ed è questa la buona notizia questo è l'evangelo per giobbe ma anche per noi Dio non sta dalla parte degli amici di giobbe che si autoproclamano difensori di dio trasformandosi loro malgrado in accusatori di giobbe no Dio sta dalla parte di giobbe dalla parte di chi soffre fino al punto da accettare di diventare il bersaglio della rabbia dei sofferenti fino al punto da fare entrare nella bibbia nella sua parola quelle che agli occhi di molti di noi suonerebbero come delle vere e proprie bestemmie il paradosso bellissimo della bibbia è proprio questo che in essa nella parola di dio vengano accolte ed accettate parole che sembrano essere perfino contro dio Dio comprende e accoglie a tal punto il grido dell'innocente contro il cielo da assumerlo da farlo proprio da trasformare quella parola a tratti blasfema nella sua parola quando gli amici di giobbe assumeranno il ruolo di difensori di dio e giobbe di conseguenza da vittime diventerà imputato Dio rinuncerà per un momento a ricoprire il ruolo di giudice per trasformarsi in quel testimone in quel garante in quel difensore a lungo invocato dal povero giobbe e tutto questo giobbe sembra intuirlo avviene così che al culmine della propria sofferenza quando ci aspetteremmo la rassegnazione il suicidio oppure parole di maledizione rivolte contro dio ci troviamo invece di fronte a una splendida confessione di fede di giove io so che il mio redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne io vedrò Dio io lo vedrò a mie favorevole lo contempleranno i miei occhi non quelli di un altro il cuore dal desiderio mi si consuma così è scritto nel diciannovesimo capitolo del libro di Giobbe versetti da 25 a 27 al culmine della sofferenza da questo Giobbe che apparirà come un eroe tragico ci si aspetterebbe una riflessione cupa sul non senso della vita un po' come avviene nel Macbeth di Shakespeare che si ritrova a dire queste parole la vita non è che un'ombra che cammina un povero commediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo per la sua ora e poi non se ne parla più una favola raccontata da un idiota piena di rumore e di furore che non significa nulla e invece no sono ben altre le parole che Giobbe pronuncerà io so che il mio Redentore vive io sento che la mia sofferenza il mio dolore non sono la punizione di qualche colpa da me commessa io so che in fondo Dio non può essere un sadico che goda delle sofferenze umane io sento che un giorno questo Dio che non sempre riesco a comprendere i cui disegni mi sono troppo spesso oscuri io sento che un giorno questo Dio lo incontrerò faccia a faccia io intuisco che c'è qualcosa che va al di là di questa vita sento che la morte non può essere l'ultima parola non può avere l'ultima parola sulle nostre esistenze tutto questo e molto altro Giobbe lo comprenderà proprio quando ormai avrà perso tutto tutto tranne una cosa la propria fede quella fede sottoposta al banco di prova della vita sebbene scosta fin nelle fondamenta ne uscirà trasformata ma non distrutta semmai purificata alla fine del suo percorso dopo aver litigato con tutti i suoi amici anche con Dio Giobbe si ritroverà con una fede più matura e farà vincere a Dio la scommessa con il Satana dimostrando che è possibile che si può veramente credere per nulla quando non potrà più credere nella dottrina semplicistica della retribuzione secondo la quale ai buoni va sempre tutto bene ai cattivi sempre tutto male Giobbe farà sua quella semplice verità secondo la quale il sole sorge sui giusti e sugli ingiusti e quando piove piove sui giusti e sugli ingiusti Dio non gli apparirà più come un giudice capriccioso e arbitrario che si diverta a dispensare il male gli si ribellerà piuttosto come il Redentore come colui che alla fine libera da ogni male e che ha l'ultima parola sulla vita così come sulla morte io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne io vedrò Dio io lo vedrò a me favorevole lo contempleranno i miei occhi non quelli di un altro il cuore dal desiderio mi si consuma questa sarà la confessione di fede di Giobbe questa è la fede alla quale noi stessi oggi siamo chiamati amin grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti